Poi inizi a piangere, poi inizi a ridere, poi ti arrabbi, poi urli. È un turbine di emozioni assurde. Io mi sono innamorata della scherma completamente per sbaglio. Ho sbagliato palestra e c'era tipo un corridoio con queste due palestre laterali e ho sbagliato porta. Io non conoscevo la scherma, non sapevo assolutamente cosa fosse la scherma. Una volta che sei in pedano, una volta che sei a una gara, sei il risultato di tutto ciò che hai fatto prima. Adesso è il momento la nostra preferita, la Techno Gym Bench, perché ha tutto. Ovunque tu sia, tu sai che hai tutti gli attrezzi di cui hai bisogno. Il mio sogno in realtà era l'Olimpiade, non pensavo assolutamente alla Paralimpiade. Però quando il sogno è quello, che si è in piedi e si è in carrozzina, a quel punto non cambia niente. L'importante è riuscire ad arrivare e arrivare là. È strano perché tu cerchi tutta la vita di non perdere per riuscire a vincere e nel momento in cui vinci ti rendi conto forse di quanto era importante perdere. Il mio nome è Bebe Bio. Il mio obiettivo è quello di far sì che il mondo paralimpico riesca ad arrivare al suo massimo splendore. E il tuo obiettivo qual è? Champions Train with Technology